ciao e benvenuti un nuovo video allora oggi apriamo insieme le blissing box italiane e francese quelli di settembre 2023 come sempre le ho tutte e due e come sempre andiamo a paragonarle allora ho solamente tolto i dati personali quindi adesso le apriamo insieme partiamo da questa che è la francese perché c'è scritto f e andiamo a guardarla è fatta così intanto molto carina semplice la scatola allora intanto che la apro e vediamo dentro che cosa c'è rentre ad ore ok per il rientro ok ed è c'è sempre il qr code con i dati e per vedere adesso prendiamo il telefono per andare a scansionare il qr code e vedere i vari prezzi dei prodotti allora vi ricordo come sempre che la box francese costa 16 a 90 più spedizione per un totale di 20 euro ed è nell'info box come sempre c'è in link per avere 10 euro di sconto sullo shop perché ci sono tantissimi marchi andiamo a vedere intanto che cosa contiene questa blissing box francese e la vediamo così ok vedo dei prodotti interessanti altri più altri meno però interessanti partiamo alla sinistra e andiamo a destra anzi partiamo da questo perché voleva scendere questo è tart e già ci interessa shape tape è un correttore colore medio 35 n questo è un travel sites da un ml andiamo anche a vedere il colore direi che è super super coprente guardate un po però il medio ci sta e aspettate che devo scansionare ed andiamo a vedere 15 euro però è ovviamente parte il trattore quando io registro ma facciamoci andare bene poi andiamo avanti maroccano il volumizi mist questo è uno spray volumizzante e mi interessa molto in questo periodo è un 20 ml ok ed il prezzo è di 4 euro perché è un buono il profumo è un non è sì un 20 ml va bene da da viaggio ok poi andiamo avanti nux marvellans lift crema bonnmine effetto liftante e questa ci interessa molto è un 15 ml quindi è proprio non è un formato vendita e nux 14 euro come si ha questo prezzo e guardando il formato intero quanto costa guardando la confezione questa quanto quanto contiene si fa la comparazione e si divide il prezzo intero per questo quindi ha un valore di 14 euro vediamo ah è colorata è una crema colorata arancione vediamo un po ma resta colorata ah no no ok una volta applicata ma è da giorno o da sera bonnmine a corregge rughe però correction ride quindi corregge le rughe va bene anche da giorno ma se volessi applicarla la sera perché è un po' una volta stesa non dà nessun colore ecco qui non ha profumo e quindi ok andiamo avanti questo è invece direi che è un full size skin city vitamin a cd e omega 3 6 e 9 siero nutriente 30 ml direi che è un full size applicare quattro gocce mattina e sera sul viso pulito ok sottravociando dal francese quindi ci sta e questo è un siero la vitamina 30 ml quindi penso che sia un full size e andiamo a vedere skin city ok 30 ml è un travel size e viene 3 euro ok ok non ha tanto valore questo prodotto comunque va bene vediamo a vederlo è tanto sia proprio un olio è proprio un olio un olio nutriente però ha un profumo agrumato fantastico mi piace un sacco il profumo mi piace il profumo allora dato che sto facendo un po un po ciò andiamo a pulire un attimo le mani e poi andiamo con l'ultimo prodotto perché sennò vado a sporcare avete mai pensato che i miei video fossero normali pratici semplici da vedere una cosa veloce ecco no mai e andiamo avanti posso dire anche che il correttore della carta resiste bene a modo e andiamo avanti con l'ultimo prodotto che è il retinol serum di tinky list questo qui 30 ml quindi un full size formulato per tutti i tipi di pelle per pelle normale da sera mi raccomando il retinolo sempre e solo la sera ma questo ormai se ci interessa la skin care e il retinolo lo sappiamo questo lo provo tra un pochino perché ancora un po di sole c'è questo il retinolo è fotosensibilizzante sapete ok dato che è sigillato lo tengo sigillato perché aspetto ancora un pochino però sono curioso di provarlo perché a me il retinolo piace alcuni marchi sono più potenti altri meno voglio sapere questo però citare sarebbe anche il prezzo giustamente e 13 euro ed è un full size quindi facciamo una rapida carellata abbiamo detto che 20 euro la box qui il totale la somma è di 48 euro sì ok e allora andiamo a vedere cosa abbiamo nella box francese il olio naturale nutriente della skin city che comunque tante vitamine dentro quindi perfetto per risultare la pelle questo della nux che è una crema bone mine effetto liftante sempre utile il maroccano il volumizzante per capelli il retinolo della tin key list ed è questo mini della tarte che però è talmente concentrato ed è pigmentato che ne basta davvero poco e ci piace adesso noi mettiamo qui questa box francese che oltretutto con le sue istruzioni e tutto perché andiamo a vedere quella italiana ovviamente quella italiana arriva sempre molto dopo lo si può aspettare un sacco per fare il video però d'accordi fare la comparazione e quindi aspettiamo allora vedo intanto che quella italiana già da qua è uguale in esterno l'andiamo ad aprire ok ci ricorda che esisterà il calendario dell'avvento e speriamo che sia anche in disponibile in italia qr code e tutto il resto e allora lo appoggiamo qua poi altra cosa che vi devo dire il prezzo di quella italiana 16 90 senza spedizione quindi 16 90 prezzo finito qui sotto nell'info box ma sempre nell'info box in evidenza in tutti quanti video andato a cercare tutti i codici sconto in questo caso c'è il codice sconto per 5 euro di sconto sulla prima box e andiamo a vederlo così magari questo lo mettiamo per il dritto e vedo così a occhio che c'è solamente un prodotto uguale e la cosa ci piace però di questi un prodotto uguale il resto devo dire che partiamo da questa queste non mi piacciono e la spazzola massaggiante per il corpo che oltretutto il legno è comoda in pratica ma non mi piacciono non mi piacciono perché va a irritare mi fa male più che preferisco massaggiare la crema sul corpo con le mani però per il resto andiamo a vedere ok vediamo che c'è intanto questo che della nux ed è uguale ma ci sta va bene e tutto il resto uno altri tre sono diversi allora rimettiamo qui la nux avevamo detto scansione al codice la nux e vanetto 14 euro poi abbiamo della tarte sempre la tarte per mi piace perché il correttore e in questo abbiamo il mascara ma in eter è un 4,5 ml però è un travel site formato vendita particolare ma sapete la mia passione per rimascare quindi lo andiamo a provare sicuramente tantissime settoline sottilissime in silicone andiamo a vedere intanto vi dico il prezzo che è 15 euro poi altri due prodotti è questo che credo che sia un full size voilà e il siero contorno occhi 15 ml 98 per cento d'origine naturale questo è sicuramente un full size vegano con acido ialuronico ok e adesso lo proviamo perché io ho un contorno occhi mi serviva le ho finto ieri giusto giusto quindi vediamo ok è proprio in crema dopo vi dico il prezzo è fatto così è cremoso è cremoso bello nutriente quindi perfetto per la sera perché ho finito quello da sera perfetto signo 1 per il giorno e 1 per la sera bello 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 non ha profumo è in crema questo lo andiamo a provare subito mi serviva quindi ok il prezzo voi la 19 euro e 90 altro prodotto che penso sia in full size e questo della dermalogica special cleansing gel gel detergente senza sapone sto cercando di aprirlo ma perché devo andare ad aprire il sigillo apriamolo di là no devo proprio andare dalla pere comunque un 50 ml allora 6 e quando i sigillati e sigillato qui eccola qua e ho visto intanto che c'è in due formati 50 100 ml quindi questo qua e la formula così anche questo mi incuriosisce provarlo non ha profumo anche per la doppia tensione un detergente delicato quindi è fatto così ok e andiamo a vedere il prezzo che è 15 euro per il formato da 50 ml ci piace allora senza metterla la scatola rifacciamo così allora abbiamo la spazzola che non piace poi la nux che avevamo già visto nella box francese il mascara della tarte il contorno occhi vuola e a dermalogica il detergente per il viso questo box tranne la spazzola mi piace come è piaciuto quella francese abbiamo detto 16 euro e 90 facciamo un po la somma io escludo questo dalla somma perché non so che valore potrebbe avere e qui non c'è scritto un valore sinceramente quindi forse è un omaggio non ha valore potrebbe comunque essere un omaggio perché vediamo che ha già 60 euro di valore su questi prodotti e quindi ci sta ci sta che sia omaggio dovete mettere un altro omaggino una molletta per capelli era più simpatica al mio avviso comunque fatemi sapere voi quale box avete preferito questo mese se conoscete brissimi se siete abbonate alla box francese quella italiana scegliete voi per provato un po di volte la box francese vi arriva a inizio mese quella italiana ho visto che arriva verso fine mese l'unica differenza che ho notato però per il resto abbiamo visto che almeno sia italiana che francese hanno prodotti diversi almeno tranne Nuxe che va bene una crema per il viso e il fatto che mi piace molto il fatto che la tarta ad esempio in una ci sia il correttore e in una mascara apprezzo molto questa scelta e niente io porto abbastanza e come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao